Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video di Yo-Kai Watch Puni Puni E' 5 marzo e sono uscite dei nuovi puni, ovvero Orochi e Kyuubi, Velenotto e Kyuubi per capirci E la mia intenzione era di portare un video un pochino più completo e lungo Ma dato che Kyuubi non mi interessa relativamente, mi interessa solo Orochi, Velenotto Ho deciso di fare le multi solo su questo Yo-Kai E sono andate benino, non ne ho speso troppi punti Avevo messo in conto anche di fare 7-8 multi per riuscire a trovarlo Però è andata molto bene, sono molto soddisfatto del lavoro Inoltre ho anche farmato bene, quindi diciamo che è stata una vittoria doppia per me Quindi niente, vi lascio al video e poi anche all'EnergyMax di Velenotto Anche gioca Á, ecco Orochi, poi vieni sui Siamo uccisi Entra culampa iad insolvU Cora Pag〇 Divendolo べ Puoi Pag!? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.